La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Urbino, hanno emanato un avviso di conclusione delle indagini preliminari scaturite da un esposto depositato a gennaio del 2017 dall'ex Vice Sindaco del Comune a fronte delle modalità di selezione di un responsabile organizzativo nell'ambito della società Inaus Urbino Servizi, incaricata dal Comune per la gestione di alcuni importanti servizi pubblici, quali parcheggi, strutture museali, uffici turistici e scuole comunali. Le indagini hanno permesso di far emergere numerose criticità e diregolarità nelle procedure adottate dalla società. L'attività investigativa svolta dai militari riguardava delle intercettazioni telefoniche relative a 13 utenze, verificando conversazioni e comunicazioni tra i presenti mediante captazione audio negli uffici della società, i quali risultavano essere emerse numerose condotte a 20 secondi alla parte accusatoria, rilevanza penale degli indagati, nell'espletamento delle procedure di assunzione del responsabile organizzativo di Urbino Servizi, nella formazione e formalizzazione delle decisioni adottate dalla società di esecuzione di bandi di gara e nelle procedure per l'individualizzazione a scelta dei fornitori di beni e servizi, nelle modalità di assunzione di personale dipendente tramite agenzie di lavoro interinale per l'affidamento dei servizi di gestione di strutture pubbliche. Sono state indagate complessivamente oltre 60 persone, di cui 40 soggetti, tra cui pubblici ufficiali, sono stati contestati 30 capi di imputazione di delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, tra cui corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Per le restanti posizioni si è preceduto con richiesta di archiviazione, non ritenendo elementi sufficienti per poter sostenere l'accusa in giudizio. I filoni di indagine emersi per ultimo sono ancora in fase istruttoria, anche se verranno definiti entro breve termine.